Rete a raccolta e a Taranto nella città vecchia, sul lungomare di via Garibaldi, una serie di associazioni che supportano come volontariato l'azione di Chima Ambiente Amiu. Quest'oggi è un'azione di bonifica e di pulizia nelle acque antistanti via Garibaldi. Abbiamo una delle operatrici di Siamo Taranto, una volontaria, social fondatrice. Il significato di questa giornata e poi ci direte nel dettaglio cosa avete trovato, perché proprio in presa diretta sta uscendo di tutto di più dal mare. Il nostro obiettivo è sempre quello di pulire l'ambiente, perché noi abbiamo la passione per l'ambiente, tutto ciò che riguarda l'ambiente, la natura, la costa, il mare, le macchie mediterranee che andiamo sempre a pulire. Il nostro scopo è quello di pulire, per amore dell'ambiente. E qui a Taranto vecchio, su queste banchine stiamo trovando di tutto, bottiglie di vetro. Andiamo proprio, o addirittura una ruota, guardate un po', tre ruote, quasi quasi. E poi possiamo rifornire un gommista. Sotto, come vedete, questi pontini di legno, praticamente loro si annidano, si annida tanta sporciata. Come pattumiera, perché... Bottiglie e quant'altro vengono magari abbandonate. Loro usano, fanno quello che devono fare e poi... Senza sapere che poi, in effetti, loro stessi ci vivono. Esatto. Ecco, vediamo un po', proprio nel sacchetto, cosa emerge. Ecco, vedete, c'è di tutto, impresa diretta. Vettine, bottiglie di plastica, poi tante stoffe, carte... Teniamo presente che la plastica è assassina per l'ecosistema. La plastica non è biodegradabile, è pericolosissima. Abbiamo tolto dall'acqua, proprio, lì arriva buste e anche pezzi di plastica. Li abbiamo raccolti con i rastrelli e li rimangono sul fondo e poi magari i pesci, non so, si nutrono. Inoltre, queste retine sono pericolosissime, per esempio, per le tartarughe, che potrebbero impigliarsi. Potrebbero, sì, sì, sì. Vabbè, sì. Infatti, mesi fa, lì a Mare Chiaro, fu trovata una tartaruga morta. Appunto. Per quale motivo? Però abbiamo trovato anche degli uccelli morti, tipo le gazze, un'altra specie di uccelli. Ora non so se perché si nutrono di qualcosa che inquina loro oppure perché i pescatori usano le bombe. Comunque, davvero, complimenti per questa azione. È una domenica in cui davvero possiamo dire siamo Taranto. Siamo Taranto. Noi facciamo tutto per amore della città. Noi facciamo tutto per amore.